Ok, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi proviamo a fare la sfera Poké. Come vedete, questo tutorial non vuole fare solamente la sfera Poké, vuole quindi creare anche una piccola ambientazione dietro, un piccolo poggio per la sfera Poké e fare un rendering che appunto sia abbastanza realistico, come questo qui che ho fatto proprio ieri. Vi dico subito, innanzitutto apriamo Maya, vi dico subito che vorrei farlo con il V-Ray e quindi non con il render che c'è in Maya già installato tipo Mental Ray, ma V-Ray è un pochettino più, poco più complicato da usare, però i render sono molto molto meglio. Allora, spero che abbiate già visto il video scorso, così partiamo già che sappiamo le basi. Niente, creiamo una sfera, velocemente, facciamo lo smooth due volte, andiamo con lo spazio sulla vista frontale o laterale, prendiamo solamente le facce in mezzo e con l'extrude ritorniamo in dentro. Ora, perfetto, ora selezioniamo, bene. Allora, innanzitutto dovete andare su setting preference, plugin manager e attivare V-Ray, perché altrimenti non potete assegnare i materiali V-Ray all'oggetto. Perfetto, una volta fatto, selezionate tutta la parte di sopra come sto facendo io, assegna nuovo materiale, avrete V-Ray metal, ecco ogni tanto mi fa questo giochetto qui. Quindi, niente, riassegniamolo, assegniamo materiale, V-Ray metal e lo chiamiamo rosso. È importante dargli il nome, altrimenti poi ci scordiamo qual è il metallo giusto. Allora, colore di diffusione rosso bello acceso e questo qua appunto sarà il colore finale che vedrete. Poi, le uniche cose che ci interessa sono la riflessione. Il colore sarà bianco, perché un materiale metallico di solito riflette bianco, oppure il colore originale, però bianco vi assicuro che viene meglio. E usiamo il Fresnel con la subdivisione a 16. Perfetto, facciamo la stessa cosa per gli altri colori. Quindi, assegna nuovo materiale, V-Ray metal, questa volta bianco, riflessione abbastanza alta, Fresnel 16. E lo chiamiamo bianco. Ora, qui, in mezzo, segniamo un materiale, V-Ray metal, nero, non troppa riflessione, 16. Come vedete, la sfera Poké è iniziata a crearsi. Ora, create un bel cilindro, come sapete già, se avete messo impostazioni come l'ho messo io nello scorso video, ve lo troverete in mezzo, quindi sapete già che è selezionato e sposterete subito il cilindro. Poi, cliccate due volte su Rotate Tool e cliccate su, se non è già attivato, il discrete rotate con step size a 15. Questo vi permette di muovere discretamente, diciamo con discrezione appunto, qualsiasi oggetto voi state facendo fare la rotazione, in modo da essere convinti che quando la fate, in questo momento, è perfettamente allineato, vedete, è perfettamente allineato con l'orizzonte. Perfetto, ora fate come sto facendo io, fate sì che appunto rientri giusto giusto dentro la sfera Poké, vedete quando questa linea verde appena appena sparisce, perfetto. Ora, un trucchetto è, innanzitutto, di aumentare, ecco, ormai è proprio stupido a volte, niente, creo un altro cilindro e stavolta lo faccio prima, aumentare le subdivisioni, così, sì, aumentarle abbastanza a caso, basta che aumenti e fare niente, fare la stessa cosa di prima. Inserire, inserire, ok. Una volta convinti, il trucchetto è di assegnare il materiale, che non l'ho chiamato però è il quarto, vero? Mi sono dimenticato di chiamarlo. Chiamarlo adesso nero. E subito di attribuirli il materiale, in modo che adesso che facciamo il Mesh Booleans Difference, la parte sottratta sarà già colorata di nero. Perfetto, una volta fatto questo, innanzitutto, proviamo a vedere se... No, ecco, non viene bene, quindi fa niente, lasciamolo senza smooth. Niente, prendete un altro cilindro, anche questo aumentiamolo abbastanza, ecco, questo se volete farlo bene mettete il Round Cup, che appunto permette di averlo, beh, lo vedete da soli. E lo schiacciamo, lo schiacciamo, lo rotiamo bene, in modo da essere perfettamente allineato, gli diamo subito il colore bianco e lo inseriamo. Perfetto, allora adesso dobbiamo trovare la giusta dimensione in larghezza, facciamo così, perfetto, vediamo come l'ha fatto l'altro, ma si deve ancora, mettiamo un po' più fuori, un po' più piccolo. Ora, duplicatelo con CTRL D, sapete già che è selezionato l'altro, perciò potete subito rimpicciolirlo e portarlo fuori. Quindi ora, in base a quanto volete, lo tirate fuori e lo fate un po' più piccolino. Perfetto, allora, la sfera Poké, essenzialmente è fatta. Ora, se volete modificarla un pochettino, se volete migliorarla. Allora, andiamo alla parte del render. Se questo è per fare il render del, appunto, di ciò che vedete al momento, come vedrete, il risultato sarà appunto di una sfera bruttissima, stilizzatissima. Ma cosa fate? Andate qui e mettete, direi, e poi ridate il render. Già molto meglio, come potete vedere. E ora, la parte, diciamo, più interessante. Innanzitutto, potete fare il combine della mesh, in modo da poterla muovere tutta quanta insieme, senza problemi. Ok, io la metto precisamente allenata. Ok, allora. La cosa divertente adesso è mettere, diciamo, lo sfondo. Lo sfondo, ve l'ho già preparato uno che troverete sempre nei link sotto il video, come troverete anche il download di V-Ray. V-Ray, vi dico subito che è la versione per Autodesk Maya 2013-2014 per 64 bit. Se volete, si potrebbe fare anche una piccola, velocemente... Ecco, guarda, la faccio velocemente. Allora. Allora. Assegniamo materiale, ecco, se volete far sì che non avete V-Ray, non potete scaricarlo, questo e quest'altro, vi faccio vedere con Maya2MR, quindi Mental Ray, cosa dovreste fare. Allora, il più utilizzato è dei materiali Mental Ray e MiaMaterialExPasses, voi cliccherete e dovete fare esattamente la stessa cosa. Quindi mettere il colore rosso, acceso, la riflessione alta e mettere Metal Materia. E niente, e basta. Io lo rimetto rosso. Ok. Perfetto. Quindi, una volta fatto questo, creiamo il nostro piccolo... la nostra piccola scena. Andate su Render Setting e cliccate esattamente ciò che clicco io. Quindi andate su Illuminazione Indiretta, mettete la G, On. On. Se proprio volete farlo benissimo, cliccate anche questi due On, quindi Caustiche e R, Caustiche Riflettive e R-Frangenti. Aumentate la subdivisione dell'Ambiente Occlusion a 16 e andate su Environment. Su Environment dovete cliccare sull'attivazione dell'Override Environment e cliccare sul primo quadratino che c'è qui, sulla piccola scacchiera. Andate su File e qua vi apre l'attributo editor del file che avete appena scelto e potete andare a prenderlo andando sul desktop o comunque dove l'avete inserito voi. Vi dico subito che andremo a cercare ciò che vi ho passato sotto nel link. Cos'è questa? Questa è un'immagine HDR. Un'immagine HDR è un'immagine a 360 gradi che permette di far sì che ci sia uno sfondo e le cose riflettenti vengano esattamente come c'è nello sfondo. Quindi andate su Window, Rendering, Hypershade e qui trovate sia tutti i materiali che abbiamo fatto, bene, e se andate sulle texture trovate il file che avete appena caricato. Con il tasto centrale del mouse trasportatelo sugli altri quadratini, come sto facendo io, e è fatta. Cliccate su Render e come vedete la palla si è appunto sistemata dentro questo bellissimo file, questo immagine a 360 gradi. Se voi muovete così nel render vedete che anche lo sfondo, in base a cosa visualizzate, cambia. Questo diciamo che è il modo principale per far venire le cose più realistiche in Maya. Ora, a noi questo basta e non basta. Ok, se volete fermarvi qui, potete fermarvi qui perché alla fine il render è fatto, la sferbo che c'è e viene abbastanza bene. Se avete voglia di continuare, io faccio un piccolo, molto breve, ecco anzi facciamo un bel, fate come faccio io, prendete un cubo, un po' sotto, sac, e sac. Fate anche qua assegnazione nuovo materiale, andate su Vire Metal, diffusione colore, aumentatela poco, riflessione, aumentatela, fresnel, sedici, facciamo un colore neutro quindi. Una cosa carina è utilizzare il bevel qui, il bevel che mi pare che voi lo troviate qui, ecco in Edit Mesh Bevel, quando lo cliccate o succedono questi casini, ed è molto probabile che succedano questi casini, oppure se lo settate bene, quindi vi faccio vedere come lo ho settato io velocemente, ok, vi ammorbidisce tutti questi, solamente i lati. Ecco, se avessimo fatto uno smooth, in questo caso sarebbe successo che la nostra base sarebbe diventata così, e a noi non andava bene. Ok, fatto questo, cosa facciamo? Facciamo come ho fatto nell'immagine, quindi creiamo una più piccola sfera bokeh, perché non so se ve lo ricordate, ma le sfere bokeh, quando clicchi il tastino in mezzo, cioè questo qui, o vengono tirati fuori i pokemon, oppure vengono impicciolite per stare meglio in tasca. Ok, mi posizionate dove volete, adesso piccolo rendering, per vedere come va il lavoro, direi che è abbastanza venuto bene. Ok, è finito di fare il rendering, si è venuto bene. Fate così, se volete fargli un minimo di... far finta che ci sia, diciamo, una base. Ok, diciamo che questi quattro qua li andiamo in bevel. Ok. Perfetto, una volta fatto questo, l'unica cosa che rimane da fare è il render. Ecco, come vedete, niente, questo, diciamo, che fa finta che ci sia un... un... una base su cui è appoggiato davvero sul terreno, e rende un pochettino più realistico il tutto. Se avete voglia di rendere il render ancora più complicato, adesso vi spiego come poter mettere il Depth of Field, quindi la messa a fuoco, lo spazio, diciamo, di messa a fuoco, l'area di messa a fuoco in Maya. Diciamo che il tutorial per la Poco Ball è finito qui. Però, continuare con queste cose, diciamo, è molto più carino, perché è anche facile. Quindi, l'unica cosa da fare è andare su rendering e creare una nuova camera. Ok, dovete, questo, diciamo, non la camera, ma l'altro, che sarebbe il punto di messa a fuoco, dovete metterlo circa, 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 all'inizio, diciamo, della... della sfera, perché è perfetto. E poi, questo qui, lo vedremo tra poco. Guardate, se andate su Panels, andate in Perspective Camera 1, sarà... adesso entrate nella camera che avete appena creato. Quindi, voi sistematevi circa così, o come piace a voi. Questo qua, lo rimettiamo qui. Ok. Ora, andate su Impostazioni, Camera, Depth of Field, mettete Get Focus Distance on Camera. L'apertura... Allora, di solito, l'apertura funziona proprio in modo inverso da come funziona su Maya, non mi spiego il perché. Comunque, mettetela tipo ad 1 e date il render. Se tutto va bene, esatto, e va bene, questa volta siamo fortunati. Appunto, la sfera Poké viene abbastanza a fuoco, viene perfettamente messa a fuoco, e ciò che è dietro viene sfoccato. Ora, sì, sarebbe magari potuto bastare anche uno sfondo sfoccato, però questo è proprio un calcolo matematico che fa ed è quindi molto più facile e sicuro. Infatti, se adesso io prendo una palla grande e, come vedete, la sposto indietro, ma sì, tipo lì, e faccio il render, come potete iniziare a vedere subito, anche la sfera Poké dietro viene sfoccata insieme allo sfondo, proprio perché lontana. Ora, qualche piccolo dettaglino, se ci avete voglia, andate su, potete cliccare appunto il cilindro centrale, assegnare nuovo materiale, e qua su V-Ray esiste il V-Ray Light. Questo vi permette, dandogli un rosso, di, niente, guardate, voi stessi, teoricamente, dovrebbe appunto illuminarsi. Questa non è un'illuminazione normale, quindi fa finta di essere illuminato, questo è proprio un oggetto che emana luce, quindi nel caso ci fosse qualcosa di fianco, verrebbe illuminato dallo stesso. Niente, se avete altre domande, io ci sono, se volete aumentare la dimensione del rendering, quindi farlo un full HD, o qualcosa del genere, andate su V-Ray Common, noi adesso abbiamo praticamente utilizzato le cose che ci servono, quindi l'illuminazione indiretta, che ci permette appunto di avere questa illuminazione omogenea, fatta bene, il V-Ray qui, che ci permette di mettere uno sfondo e di impostare la messa a fuoco, e adesso su V-Ray Common, potete andare su Resolution, e aumentarla quanto volete, tipo un 1080, contate che ovviamente il render sarà molto più lungo. Niente, fatto questo, se avete domande, scrivetemele sotto nei commenti, che magari la prossima volta potremmo anche iniziare a fare qualcosa di più complicato, come una macchina, una macchina però ovviamente ci vorrà molto più tempo, rispetto a un bicchiere o una sfera Poké. Perfetto, buona giornata, ciao ciao!